Ciao a tutti, sono Giorgio Messina e oggi sono qui per parlarvi di Animali Fantastici e dove trovarli. Il nuovo film dell'universo di Harry Potter scritto da Rowling. Non so come continuare. Perché mi prude sempre il naso quando l'hai visto? Comincio col dire che questa volta in sala c'era un'atmosfera totalmente diversa. Anche perché non era dedicata solo alla... Alla... Se andiamo seri, forse. Eh, però dovrei controllare come si chiama il protagonista, perché non me lo ricordo. Si chiama Tua Mamma Bestia. In molti me compreso chiameranno ancora per un po' di tempo questo film, il nuovo film di Harry Potter. Anche se in realtà non è assolutamente così, intanto mi vi abbono le finestre. Ma baffanculo. In molti me compreso chiameranno per molto tempo questo film, il nuovo film di Harry Potter. Anche se in realtà non è totalmente così. Che? Comunque la maglietta mi sta, eh. Una volta non mi stava e adesso sta quasi giusta. Cioè, che figata di magrire. Ero andato a cercare il libricino di Animal Fantasy, c'è da trovarli, ma in realtà io possiedo in borsi una cartacea solo beh dal barbo. Devo ammettere che prima di vedere il film ero molto preoccupato... Devo ammettere che prima di vedere il film ero molto preoccupato per alcuni... Devo ammettere che prima di vedere il film avevo diverse preoccupazioni. In quanto... Cre... Ma sto registrando l'audio? Sì. In quanto nonostante io abbia apprezzato comunque l'Hobbit, abbiamo molte scene di tempi morti, loro che passeggiano e basta, e quindi ero abbastanza preoccupato, in quanto... Nonostante io abbia molto apprezzato i film, c'è la trilogia... Non sono riuscito a capire se il film sia stato girato in 3D nativo o meno, però devo dire che guardandolo non ci sono stati effetti strani. Ed è, secondo me, stato pensato per il 3D, quindi probabilmente è stato anche girato in 3D, in quanto molte scene sono state riprese apposta per far fuoriuscire o far rientrare dei pezzi di sceneggiatura... Sceneggiatura... Scenografia! Per quanto riguarda il 3D, non sono riuscito a capire se è stato girato in 3D nativo o meno, però devo dire che il 3D è stato veramente bello da vedere, e secondo me il film in preproduzione è stato pensato per il 3D, quindi probabilmente è anche stato girato in 3D, in quanto in molte scene sono restate... Biviamo un sorso d'acqua. Ah, in versione lavandino. Ah, comunque si illumina il buio, eh. Per quanto riguarda il 3D, non sono stato... No, beh! Per quanto riguarda il 3D, non sono riuscito a... Ma non mentre leggo, perché non mi ricordo le cose! Jacob si unisce alla nostra storia e sa per... Jacob si unisce alla nostra storia perfettamente per caso, perché si scontrano loro due e da lì inizia la loro avventura. Devo dire che il film senza il personaggio di Jacob sarebbe stato decisamente molto molto più noioso, in quanto lui è estremamente comodo. Comodo? Ma che cazzo dico? Comico? Non com'è, è comodo perché è grasso. Cacchio, io sono comodo. Senza raccontarvi troppo vado a raccontarvi due scene che mi sono piaciute molto di Jacob, sono... No. Senza raccontarvi troppo vado a raccontarvi... No. Senza raccontarvi troppo... No! E soprattutto è stato bellissimo vederlo durante la cottura, non cucinazione, cottura. Fa male i piedi stare così. E' stato anche molto divertente vederlo durante la preparazione e la cottura, non cucinazione, cazzo. Cucinazione non esiste, ricordatevelo. Cucinazione non esiste. Ma si può inventare. Sinceramente però non ho capito perché il nostro protagonista ha dovuto prendere una nave da Londra a New York in quanto... Non riuscirò mai a montare questo video in quattro ore. Né, qua, tre ore. Concludendo il film mi è piaciuto, devo dire che è stato come tornare a casa dopo un lungo viaggio in quanto tutti i Potter fan, me compreso, aspettavano qualcosa di nuovo dalla fine dell'ultima saga di Harry Potter che adesso non mi ricordo l'anno ma è stato parecchio tempo fa e quindi non so come continuare. Ti è avuto un cropping goal, ragazzo. Mi sono commosso.